ragazzi con solo due anni di ritardo youtube ci ha finalmente mandato l'attesissimo silver button ragazzi il silver button di solito lo danno a 100.000 e noi li abbiamo raggiunti due anni fa per cui siamo un po' in tempo pronta? sono inglese eccolo! Sofì gioca con me ecco qua fa un certo effetto Sofì si è bellissimo è un modo di celebrare tutti c'è un gattinile c'è un gattinile che ti seguono Sofì comunque tranquilla è solo il primo passo poi abbiamo quello d'oro e quello di amante questo è bellissimo ragazzi questo premio è anche per voi che mi seguite perché è grazie a voi che mi avete seguito quindi grazie grazie per il regalo lo andrò ad appendere il capo ciao 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 ciao